Una lussuosa villa con piscina Nardò, un'abitazione indipendente a San Nicola di Lecce, il 50% di un complesso aziendale, tre terreni edificabili per 11.000 m2, diverse autovetture, conti correnti e disponibilità bancarie per 50.000 euro. Un bel bottino, quello confiscato dalla DIA di Lecce a Silvano Franco, 58 anni di Galatina, per un valore complessivo di 1.500.000 euro. È la prima volta che viene applicata in Salento la nuova legge che ha consentito nell'ottobre scorso il sequestro anticipato dei beni ed oggi la confisca in maniera indipendente dai procedimenti penali che vedono il Franco coinvolto. Il provvedimento emesso dalla prima sezione penale del Tribunale di Lecce è stato supportato da lunghe indagini che hanno permesso agli inquirenti di dimostrare che i beni erano il frutto di guadagni illeciti. Già nel 1995 Franco venne arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Poi nel novembre 2008 nel corso dell'operazione Box 51 condotta dalla squadra mobile di Lecce venne riconosciuto come fornitore di droga per tutti i clan operanti sul territorio. Al momento si trovò i domiciliari. Lo strumento normativo è quello delle misure di prevenzione. La misura di prevenzione è uno strumento che ci consente di aggredire in maniera più celere i patrimoni dei soggetti tra virgolette pericolosi perché è uno strumento che comunque è slegato dal processo. Quindi diciamo del tutto autonomo ed è basato esclusivamente su due elementi. La pericolosità del soggetto e la sproporzione tra il reddito e il patrimonio.